figlia di un uomo politico e nipote di un ambasciatore etiope a Roma. Si diplomò nel 1969, e lo stesso anno fu eletta Miseritrea. Il suo nome in lingua amarica significa «corona imperiale». Un viaggio in Italia le aprì, quasi per caso, le porte di Cinecittà. Nel 1972 la RAIA interpretò uno spot pubblicitario per un caffè. Il regista Luigi Scattini la notò, e la scelse per interpretare il suo film «La ragazza dalla pelle di luna», che riscosse un buon successo di pubblico. Il ruolo era quello di una ragazza dei tropici che manda a rotoli il matrimonio di una coppia, borghese, con il suo erotismo prorompente, e lanciò la RAIA come attrice emergente. Seguirono un interesse dei mass media. Un 45 giri, e altri film erotici, diretti per la maggior parte da Scattini. Dopo il matrimonio con il produttore cinematografico Franco Cristaldi passò a interpretare film del, cosiddetto, cinema medio, del marito. Con titoli quali «Signor Robinson», «Mostruosa storia d'amore ed avventure», nel ruolo di «Venerdi», a fianco di Paolo Villaggio, «Giallo Napoletano», insieme a Marcello Mastroianni, e Tesoromio, con Johnny Dorelli, Sandra Milo e Renato Pozzetto. All'inizio degli anni 90 la RAIA si ritirò dalle scene cinematografiche. Dopo la scomparsa del marito la RAIA diventò parte attiva del lavoro di produzione cinematografica. E ancora oggi produce diverse pellicole per il cinema e la televisione, rimanendo sempre dietro le quinte. Tornò in televisione solo nel 2001. Intervistata da Daniele Luttazzi, per il programma Satiricon, con il suo nuovo compagno, il regista Massimo Spano, dal quale ha avuto un figlio, Michelangelo, il 16 settembre 2015 torna ospite in televisione nel programma RAI LA VITA in diretta intervistata, da Cristina Parodi.